Liceo linguistico per le arti dello spettacolo dedicato ad Alberto Sordi. Abbiamo voluto dedicare il liceo ad un amatissimo attore italiano che è stato capace di rappresentare la nostra cultura nazionale in tutte le sue sfaccettature e che da sempre rappresenta un'icona del cinema. Il liceo propone, oltre al tradizionale percorso umanistico e linguistico, anche discipline specifiche per l'indirizzo arti e spettacolo, con l'obiettivo di orientare gli studenti nel variegato ed affascinante mondo dello spettacolo. Vengono infatti proposte materie complementari, quali critica cinematografica, regia e montaggio, tecniche di ripresa, sceneggiatura, dizione e recitazione. Gli insegnanti titolari di queste cattedre sono tutti affermati professionisti nel campo dello spettacolo. Nel corso degli anni di studio sono previste numerose attività pratiche e teoriche, curate da noti professionisti dello spettacolo, attori, registi, cantanti. Primo giorno di scuola, primo giorno di scuola, bello, bellissimo, primo giorno di scuola. Grazie. Ha frequentato l'Istituto Santa Maria, ma nel frattempo ha fatto un sacco di cose. La voce originale in italiano di Nemo, non gliela faccio fare perché l'ha fatta migliaia di volte e poi soprattutto negli ultimi anni diceva presto, ma la voce mi è cambiata. L'Aula Magna, fornita di Maxi Schermo, è polifunzionale per le lingue e per l'informatica. Viene inoltre utilizzata sia per la proiezione di film che per conferenze e incontri con noti personaggi del settore. Il laboratorio dispone di impianto luce, di telecamere professionali e di specifiche attrezzature informatizzate per consentire agli allievi di apprendere le principali tecniche di recitazione, ripresa e montaggio in un ambiente avvincente e creativo. La scuola si avvale di strutture teatrali esterne per la rappresentazione di saggi e spettacoli organizzati dagli allievi con l'assistenza dei docenti. La recitazione include l'esibizione in presenza del pubblico e in ogni caso costituisce un'efficace esperienza formativa della personalità dell'individuo, al di là di un'eventuale affermazione professionale nel settore dello spettacolo. Il Liceo Linguistico per le Arti dello Spettacolo, grazie al proprio piano di studi, è indicato anche per accedere a facoltà come Lingue, Scienza della Comunicazione, DAMS per le discipline Arti, Musica e Spettacolo, Accademia di Arte Drammatica, Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, Corsi di specializzazione per il montaggio, per tecnico del suono o delle luci, per il doppiaggio. La stessa città di Roma è un'importante sede di innumerevoli attività relative al mondo dell'arte e dello spettacolo, oltre alla presenza di reti televisive e case di produzione cinematografica. Il Liceo Linguistico per le Arti dello Spettacolo costituisce un'ottima opportunità per i giovani che desiderano avvicinarsi alle varie carriere artistiche e professionali nell'ambito del mondo dello spettacolo. Regista, montatore, sceneggiatore, tecnico del suono e delle luci, attore, presentatore, cantante, doppiatore e molti altri. La scelta di oggi è decisiva per la tua formazione e per il tuo futuro.